Invece sul fatto della tua sessualità? Di essere lesbica. Sì, di essere lesbica. No, in realtà anche lì per fortuna... Però domanda qual è? Domanda sempre su... Parloci del fatto che sei lesbica. Come essere lesbica, no? Cioè il fatto di... Ah, di discriminazione. Sì, di discriminazione, di come te la sei vissuta anche durante, tra virgolette, adolescenza, perché già tu avevi questa cosa di essere, tra virgolette, diversa dalla maggior parte delle persone per le origini, quindi... Sì, no, in effetti mi rendo conto, mi dice anche la mia psicologa, rendi conto che sei veramente una cosa... Cioè, mezza giapponese, ma anche lesbica, sì, effettivamente fa parte anche quello del mio... Sono tutte piccole sfide quotidiane che devi affrontare nel mondo occidentale, diciamo. Esatto, esatto. Qual è la domanda? No, sì, l'essere lesbica, insomma... Sì, se quello ti ha dato, cioè come te la sei vissuta nel giudizio degli altri, nelle... No, in realtà... Allora, penso che come la maggior parte delle storie di persone che a un certo punto fanno coming out, ti senti veramente di... Ah, ok, io sono questo. Una volta che ti accetti di essere questo e te la vivi serenamente, passi magari anche sopra a commenti... Oddio, commenti, proprio magari anche situazioni, mettiamo anche così, politiche, che non ti stanno bene, ma che comunque tu sai di non essere nell'errore o di, insomma... Ok. Di viverti la tua vita serenamente. Tu l'hai accettato presto? Allora, intanto io ho una storia super bizzarra, perché... Beh, ma... No, no, non bizzarra, cioè... Tazza di caffè è il posto adatto. È il posto adatto per raccontare questa storia. Allora, mi rendo conto che ho fatto un percorso opposto a quello che fa di solito la maggior parte delle persone, che scopre di non essere etero, banalmente, esatto. Queer in tutte le sue etere. Perché ovviamente in un mondo ideale non c'è una cosa di base che è essere etero. Viviamo però in una società che è ancora eterocentrica, quindi comunque... Esattamente. Come si dice, eteronormata? Eteronormativa? Sì, io ho detto eterocentrica, ma penso di averlo inventato. In questo momento, esatto. Da oggi si dirà eterocentrica. Ecco, insomma, rispetto alle persone queer a 360 gradi, che a un certo punto fanno coming out o non fanno coming out, insomma, quello che voglio dire è che io prima ho fatto coming out e poi ho iniziato a frequentare ragazze. Ok. Di solito tu fai esperienze e dici, ok, sono questo. Io invece lo sentivo e l'ho fatto anche tardissimo, perché avevo 24 anni, tardissimo, rispetto alla media. E sei stata con ragazzi prima? Allora... Questa è la parte che taglierei, no. No, no, non c'è problema. Tu dimmi quando, io chiedo, poi se c'è una cosa che non vuoi parlarne. No, no, ci sta, ci sta, allora queste curiosità, allora... Io sono, a me affascinano queste cose. I miei primi fidanzatini, agli elementari. Ok. Poi sono uscita con un ragazzo, non mi ricordo quanti anni avevo, so che facevo pianoforte. Ho fatto pianoforte per qualche anno. Ok. Mezza asiatica, mica per niente. E... Non sapevo di cosa succede, devo dire. Ah no, in realtà io sì. C'è il cliché degli asiatici che suonano il pianoforte? Ti mancava, vero? Sì, sì, no, io ce l'ho fatta. Ah no, sei serio? No, in generale gli asiatici... No, ero serio, ma in realtà ho realizzato che invece, adesso mi sono ricordato, una delle primissime notizie di Lercio, perché io ero l'attore di Lercio della Vecchia Guardia. Era tipo India, non mi ricordo se era India, comunque un paese dell'Asia, era bambino nato con sei mani e si rifiuta di suonare il piano, una cosa del genere. Vedi, sì, no, diciamo che sì, c'è questo cliché. Quindi forse era per quello. Il cliché in Asia, che sei bravo, cioè, negli strumenti musicali e soprattutto in matematica. Ok, strumenti musicali, matematica. Strumenti musicali mi mancavo. E a fare, cioè, che poi i genitori vogliono che fai il dottore. Bravissimo. Sì, questo ce l'abbiamo grazie agli stand-up comedian. Sì, sì, sì. Ma in effetti non strumenti generali, strumenti musicali in generale. Il pianoforte. Il piano, sì, sì. Ok, non lo sapevo, davvero. Comunque, ok. Comunque dopo, se vuoi chiudere la puntata facendo vedere a tuo padre che è servito per fare lezioni, qui abbiamo un bellissimo pianoforte. In realtà anche quello grande e disonore per me, perché l'ho fatto per cinque anni, lezioni di piano. Poi a 18 anni mi sono trasferita, cioè, sono 11 anni che non ho più il mio pianoforte a muro che ho nella casa dei miei a Brescia. Per cui se lì due o tre volte a settimana mi mettevo a strimpellare, adesso ho perso tuttissimo. Comunque, queste frequentazioni, l'ultimo ragazzo, cioè l'ultimo effettivamente, togliendo quelli degli elementari, togliendo quello di pianoforte, ma tipo che, e se non vorrei dire una cavolata, ma non c'era stato nemmeno un bacio, quindi stiamo parlando proprio che, sai quando gli elementari ci mettiamo insieme, sì no, manina? Sì, tirai la manina, stai insieme. Ma a volte c'è già quello, sei già in terza base agli elementari. Esatto. E invece l'ultimo ragazzo, diciamo, prima di realizzarlo e di fare coming out, quindi questo Pietro, che saluto se casualmente ci stesse guardando, questo Pietro, e io lì facevo l'animatrice per i bambini. Insomma, mi frequento con questo ragazzo ma proprio un paio di mesi, però mi piaceva tanto, cioè, o meglio, allora lui intanto, biondo occhi azzurri, ho detto il top del sciogno, cioè, perché comunque nel mio immaginario, anzi ma io mi ricordo ancora che alle superiori, studiando francese e tedesco, comunque sono appassionata di lingue, e io mi ricordo che a un certo punto della mia vita ho detto, io mi sposerò con un tedesco, andremo a vivere da qualche parte in Europa e poi avremo dei figli, gemelli, perché poi sono anche, come si dice, sì, mi piace l'idea, in realtà non penso che avrò mai figli, però il concetto dei gemelli è interessante, ok, va beh, insomma, tra l'altro mio padre... Ma voi siete nove fratelli e sorelle? Da parte di mamma, da parte di papà, sono in tre, e due miei cugini sono gemelli. Ah, ok, 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 c'è quella cosa che salta la generazione. Sì, che però se c'è in famiglia è probabile che... Esatto, esatto. Quindi tu avevi questa, insomma, questa... Sì, capito, io prima ancora di capire di essere lesbica avevo questo... E quindi, comparo a questo Pietro, lui era presissimo da me, ma però io mi rendevo conto che non ero presa da lui, ma come mai? Ok. Ma come mai questo... È tutto quello che voglio, in teoria. Esatto! Teoricamente dovrei essere la persona più felice del mondo, dovrei avere... Sulla carta avevo fatto bingo, capito? Sì, mancava qualcosa però. Lui era carinissimo, io avevo 17 anni, lui 23, me lo ricorderò sempre, perché avevo questi sei anni di differenza, lui era il ragazzo maturo, gentile, promuroso, ho detto, Yoko, ma è top, cioè, cosa... Perché non ti sta piacendo? Mancava qualcosa o c'era qualcosa di troppo? Vabbè, questa... Questa... Scusate, ogni tanto devo farle queste cose per toglierme le date. Vai avanti. E no, insomma... E lì, infatti, quindi mi ricordo questa... Questa cosa straziante in un certo punto, ho detto, guarda, mi dispiace, ma io vedo che tu sei preso da me, ma io non... Non è altrettanto per me, per cui mi sembrerebbe di prenderti in giro se continuassimo... E mi ricorderò per sempre l'espressione che lui fece andando via con la sua auto, cioè lui mi ha detto, il mio numero ce l'hai, se cambi idea, ti senti, scrivimi, e da quel giorno non l'ho più rivisto. Ma mi ricorderò sempre l'espressione mentre se ne va con l'auto. No, possiamo approfittare di questa occasione per dirgli, non è stata colpa tua. Non era... Non è la colpa di nessuno, queste cose succedono e basse. Succede. Non eri tu, ero io. Comunque, ecco, è stata benissima. Ma sì, era proprio quello che mi viene a prendere in auto sotto a casa, aveva conosciuto i miei, cioè, tipo, piacere, piacere, anche perché mia madre fa, cioè, quindi questo ragazzo ha 23 anni, no, ok, mi ricordo che una volta siamo usciti a Brescia, c'era mio fratello che anche lui era fuori con gli amici a Brescia, in centro, fa, ecco, se, eh, ecco, tu chiami tuo fratello che ti viene a prendere, se vedi che non ti va più la situazione, non so, in che bar andate, eh, eh, niente, poi io... C'è questa costanza delle frasi dei genitori, quando parlano i figli e non vogliono entrare troppo a loro, e dico, ah, se una volta vedi che... Questa frase se una volta vedi che... Generico, generico, insegnera come voi. Tu chiamaci, ok, anche se magari hai fatto una cazza, tu chiamaci, vedi che queste frasi con questo tono, li abbiamo sentite tutti. Sì, no, lì avevo ancora 17 anni, poi il nulla cosmico, ma anche perché Venezia comunque non è una città... Perché tu hai detto, io sono già stato, sono già state in Altissimo, quindi nel senso tutte le persone che conoscono devono vedersela con Pietro, che non ha vinto. Non arriveranno a te, quindi nel senso... Se io non provavo per lui, cioè vuol dire che non... Sì, e invece bastava la figa per dire che... Invece la cosa era semplicemente... No, poi in realtà appunto 17 anni, a 18 mi trasferisco, 18-19, insomma per l'università mi trasferisco a Venezia, lì lo capisco, lo capisco perché ma proprio banalmente giravo per strada, guardavo solo ragazzi, avevo come un filtro per i ragazzi, ho detto cazzo ma qua? No, vabbè, sono lesbica. E tu quando l'hai capito, cioè come te la sei vissuta questa cosa? Nel senso, tu quando hai detto, ah, sono lesbica, eri spaventata, eri affascinata dalla Mi ricordo che all'inizio non l'avevo tanto accettato, mi dicevo no, ma veramente, ma no, ma dai, è una fase. Però ero troppo convinta, tant'è che poi volevo anche... Ma poi c'è, scusa, è mai stata una fase per qualcuno? Cioè perché c'è questo cliché che... Beh, è una cosa che hanno inventato... È una cosa che hanno inventato gli omofobi, cioè... Ma no, ma perché in realtà magari se pensi alle persone bisessuali, magari... Allora, adesso dico una cazzata, no, effettivamente non bisessuali, ma pensa effettivamente a un essere queer, a un essere fluido. Ok, se sei fluido effettivamente poi magari finisci con la tua vita in una relazione monogama Con uno dei due sessi, un sesso piuttosto che l'altro E quindi capisci che magari hai più... No, sai quella cosa che ti innamori più della persona che del sesso? Però magari, cioè non so, forse perché sto pensando ad una mia amica che è lesbica, si definisce lesbica Però non ti sdegna il cazzo Che per me è una roba super... No, in che senso? Ma lo senti? Perché io stessa, perché poi c'è questa difficoltà, cioè... E io stessa faccio a volte fatica a... Io voglio etichettare effettivamente, voglio dare un nome alle cose E dicono, ascolta, se sei lesbica... È umano comunque avere bisogno di questa cosa Sì, ma c'è chi si trova bene a dare etichette e chi invece si trova bene a dire Io semplicemente faccio quello che mi sento di fare Esatto, esatto Esatto, per cui mi viene in mente questa amica che quindi dice Quindi, non lo disdegno, però ho avuto un periodo, ma era una fase Non è che non mi piace anche il cazzo, non lo disdegno, cioè... Capite, è una roba strana È una roba strana Io non la concepisco, io sono la classica, come si dice? Golden Star, si dice... Ah, sì, tu sei Golden Star... Gold Star, mi sa che si dice, sì Ah, Gold Star Credo Gold Star Credo che sia una cosa odiatissima nella comunità LGBT, perciò Si nasconde dietro al microfono? Non le persone che, cioè, tipo... No, in realtà io so... Metterla come una cosina più... Io so che dei gay, cioè, ho conosciuto delle persone gay che erano fierissime di essere Gold Star e dicevano... Esatto, no, insomma, cosa stavo dicendo? Quindi, no, lo capisco, lo accetto, però non conoscevo nessuna e ho detto qua devo per forza andare di app... Ma vogliamo spiegare cos'è Gold Star alle persone che non lo sanno... Ah, infatti, scusate... Quindi una lesbica che non è mai stata con... Con un uomo... Con un uomo... O il contrario, un uomo che non è mai stato con una donna... Ah, quindi anche per i gay? Sì, sì, sì... Ok... Anche se in realtà c'è la famosa battuta di Andrew Schulz che dice... Se sei stato partorito, purtroppo non puoi essere Gold Star, perché una vagina l'hai vista, mi dispiace. Comunque, quindi, da lì l'hai capito. L'ho capito e mi voglio iscrivere ad un'app, però mi faceva strano che, insomma, essere su un'app, ma che le persone a cui tenevano più non lo sapessero, ma non soltanto la famiglia, anche le mie amicizie più strette, perché lo sapeva veramente una manciata di amici ristrettissimi, ma non tutti. Per cui ho detto, senti, io prima lo dichiaro e poi... e quindi lì avevo fatto coming out e mi sentivo più rilassata a vivere la mia vita anche sui social. E quindi mi sono iscritta e poi, figuratemi, una volta che mi sono iscritta a WAPA, non Tinder, WAPA. Cioè, nel senso non c'è riscritto, ma ho presente. Sì, funziona uguale, però. È il Grindr delle lesbiche. Ok. Ma che perché vuoi? Cioè, Grindr è solo per i gay? Sì. Ok, io pensavo fosse gay e lesbiche. Adesso mi fa venire un dubbio. Io ho stato soltanto WAPA per un periodo, anche Tinder, mi sembra. Ok. E lì, no, figuratemi, mi si è aperto un mondo, per cui lì ho iniziato a uscire con delle ragazze e è stata, se vogliamo, la conferma, ecco. Ok, sì. Perché mi capita che quando lo racconto qualcuno mi dica, ah, quindi, cioè, tu hai fatto coming out prima ancora di fare esperienza, faccio, sì, sì, ero troppo sicura, infatti poi... Beh, è bella questa cosa che ce l'hai capito già da te. Ok.